Il bilancio Positivo Senz'altro Oltre forse Le nostre più rose Aspettative Sapevamo che Tecnicamente Siamo una buona squadra Però non pensavamo Che già da primo anno Potessimo dare questi risultati Al campionato E al nostro paese Quindi Senz'altro bene Guardiamo Partita e partita Non facciamoci progetti Troppo ambiziosi Per la vittoria del campionato Però già giochiamo Ogni giorno L'obiettivo è far bene Piazzarsi tra i primi posti Tra i primi posti Senz'altro Possiamo farcela E poi Se arriviamo Meglio Tanto è guadagnato Diciamo che Con qualche Piccolo Innesto Potremmo giocarcela Anche Eventualmente Nella categoria superiore Insomma Diciamo che le basi ci sono E il gruppo c'è Quindi Saremmo Pronti Anche per un altro passo Musil Ormai A Palamano È storica Sono tantissimi anni Che vive qui A Palamano E fortunatamente Anche il vivaio È di buona qualità Abbiamo squadra Under 14 Under 16 Propaganda E tutte Molto Molto Motivate L'allenatore Comunque Mi segue bene I ragazzi E si preoccupa molto Di tenere i gruppi Uniti Quindi Diciamo che Ci sono basi Anche per il futuro Non solo per il presente Soprattutto tutti E speriamo che Il prossimo servizio Sia Per la Palamano Musile A Ina 1